E' morto la notte scorsa negli ospedali riuniti di Foggia il 54enne Matteo Sponsillo, guardiano in alcuni cantieri edili della città, rimasto ferito nella serata di ieri in una sparatoria venuta in via Ilaria Alpi. L'uomo incensurato stava spostando la sua autovettura, una Fiat 600 di colore blu, quando è stato raggiunto da due proiettili esplosi molto probabilmente da un revolver. I killer si sono avvicinati alla vittima a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata allontanandosi dopo aver sparato almeno quattro colpi. Due quelli andati a segno, uno al braccio e l'altro al torace. Dopo essere stato colpito, Sponsillo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Ma all'arrivo dei sanitari le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche. Trasferito d'urgenza in ospedale, il 54enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è deceduto dopo alcune ore. Mistero sul movente dell'omicidio. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile di Foggia.